Assessore, un impegno ribadito questa mattina nell'incontro con gli amministratori, la Regione Lombardia è vicina al territorio e si impegna prima di tutto per migliorare, potenziare i presidi di Piario e di San Giovanni Bianco. Sì, siamo venuti per ribadire che per noi i presidi di base, i presidi di montagna, i nostri ospedali collocati nelle zone di montagna sono un'assoluta priorità e vogliamo rafforzarli e in questi mesi stiamo lavorando in questa direzione su Piario, stiamo facendo una grande battaglia iniziata, ricordiamola, quasi un anno fa per il mantenimento del punto nascita, noi all'inizio del 2016 abbiamo fatto una richiesta, abbiamo iniziato a raccogliere un dossier per fare la richiesta di deroga per il mantenimento dell'apertura del punto nascita, richiesta che anche grazie alla mobilitazione dopo una prima di niego sta ottenendo un risultato positivo, vogliamo continuare in quella direzione e quindi rafforzare anche sia dal punto di vista ambulatoriale che come attività spedaliera rispetto a quelle che sono le attività e le epidemiologie più frequenti sulla valle. Per garantire lo standard richiesto dal Ministero una soluzione potrebbe essere quella di far turnare l'equipe nei tre presidi ospedalieri dell'azienda Bergamo Este? Sì perché noi dobbiamo dare un riscontro a un'esigenza del territorio ma garantendo in maniera assoluta la sicurezza, sarebbe drammatico se immaginiamo di tenere aperto un presidio e poi non c'è la serenità per la mamma che può far nascere con grandi professionalità il proprio bambino e quindi questa garanzia sulla manualità e sull'esperienza dei pediatri e delle ostetiche sarà data da una turnazione che può avvenire tra i vari presidi, la SST Bergamo Este ha più presidi che realizza un totale di circa 2.500 parti all'anno e quindi ha la possibilità di far acquisire a tutti quella esperienza, manualità e competenza che servirà a dare una serenità a tutte le mamme che vanno a far partorire a Piario così come ad Alzano, così come a Seriate. Quando potremo avere una risposta da Roma? Beh noi speriamo che la risposta arrivi nelle prossime settimane, il progetto è stato inviato formalmente settimana scorsa dopo che è stato validato e puntualizzato dai clinici quindi dagli esperti neonatologi che è coloro che più di altri possono dare autorevolezza alle nostre progettualità e nel frattempo il lavoro continua come se non la fosse perché noi abbiamo garantito e stiamo garantendo in tutti i presidi proprio quella attenzione alla qualità del personale che è un indice di sicurezza.